Ciao a tutti, questa è la seconda parte del video in collaborazione con il sito Bomptistore. La prima parte l'avete vista lunedì. Come vi avevo già detto nel video scorso mi hanno inviato alcuni prodotti per le unghie gratuitamente da provare. L'altra volta abbiamo provato i water decal e il top coat effetto matte. Se non avete visto il video vi lascio il link sopra in pressione. Sono scordata di dirvi che il sito ha messo a disposizione un codice scontro del 10%. Vi lascio appunto qui sotto il codice. Inoltre qui sotto nell'info box trovate anche il link al sito e il link a tutti i prodotti che ho provato io. Oggi andiamo a provare insieme i nail stencil, quelli con la forma a scaglie di pesce e il lattice liquido che serve per proteggere le cuticole dagli smalti. Con questi due prodotti vado a creare un anal art effetto coda di sirena. Come prima cosa vado a stendere una base protettiva su tutte le unghie, dopodiché sull'anulare vado a stendere uno smalto nero che si deve asciugare perfettamente. Siccome andrò a fare un effetto spugnato vado a proteggere il mio giro cuticole con il lattice liquido del sito bon pretty store. Con l'avuto del pennerino che è molto fino vado a stendere il prodotto intorno all'unghia, stando molto attento a non andare proprio sull'unghia altrimenti quando andremo ad applicare sopra lo smalto non aderirà. Vi consiglio vivamente se andate a toccare l'unghia di andare comunque a lavare le mani e ricominciare tutto a capo perché rovinerete la vostra nail art. Quindi vado a fare due passati di prodotto sia nella parte superiore che laterale dell'unghia. Adesso bisogna aspettare che il lattice sia completamente asciutto e ce ne accorgeremo perché sarà trasparente. Il tempo di asciugatorio è davvero brevissimo, ci vorranno al massimo cinque minuti se fate delle passate molto abbondanti. L'applicazione può essere un po' difficoltosa all'inizio se non state molto attenti a non toccare l'unghia ma successivamente sarà più semplice. Andiamo adesso a preparare i nostri stencil. Vado a prendere la misura delle mie unghie e vado appunto a tagliare il pezzetto che servirà per coprire le unghie che volete andare a decorare. Io voglio fare questa nail art solo su due unghiette quindi mi servirà soltanto una strisciolina che vado quindi a tagliare con delle forbici e a dividere. Questo stencil può essere utilizzato appunto come stencil e quindi applicarlo sull'unghia, fare la decorazione e poi rimuoverlo oppure renderlo parte dell'anal art e lasciarlo applicato sull'unghia. Io lo vado a utilizzare come stencil quindi una volta che il lattice è completamente trasparente vado a rimuovere la parte lucida protettiva dallo stencil e vado ad applicare lo stencil sull'unghia in modo dritto. Questi stencil sono molto fini e malleabili quindi è molto semplice farli aderire perfettamente all'unghia. È importante che lo smalto di base sia completamente asciutto e quindi premo bene per far aderire tutte le parti. Per fare la mia sfumatura utilizzerò tre tonalità di smalti, un verde brillantinoso, un verde blu brillantinoso e un blu scuro. E come base per far saltare meglio colori sul nero utilizzerò del bianco. Vado quindi ad applicare uno strato di bianco con la spugnetta, lascio asciugare qualche secondo e poi vado ad applicare sulla spugnetta i miei tre colori e vado poi subito ad applicare sull'unghia facendo mescolare bene i tre colori. Io sono andata a rimuovere subito lo stencil ma vi consiglio di aspettare qualche secondo che i colori si asciughino un pochino altrimenti come è successo a me si andranno a mischiare tra loro. Infatti successivamente con il pennellino della punta fina e i vari colori sono dovuto andare a sistemare tutte le scaglie. Una volta a risistemare un pantalana art vado a rimuovere il mio lattice con l'aiuto di alcune pinzette. In alcuni punti ho avuto alcune difficoltà perché lo smalto si era completamente asciugato e quindi si era indurito anche il lattice e si staccava in pezzettini piccolini. Quindi vi consiglio di rimuovere il lattice dopo pochi minuti che avete applicato lo smalto, non subito altrimenti avete lo stesso problema che non si rimuove. Comunque non vi preoccupate se non riuscite a rimuovere tutto il lattice perché basta lavarvi le mani con un po' d'acqua e viene via tutto smalto e lattice. Come ultima cosa vado a sigillare l'anna l'art con un top coat trasparente. Sugli altri unghie sono andata a fare un semplice french con lo smalto verde bluastro e se avete fatto almeno una volta il french in vita vostra saprete che per fare un french vi sporcate sempre il lato dell'unghia. Qui in questo caso sono andata ad applicare un pochino di lattice proprio nella parte laterale dell'unghia. Come ultima cosa applico a top coat anche sulle altre unghie. E questa è la mia Myermite Nail Art finita. Mi piace davvero tantissimo e può essere realizzata in tantissime tonalità di colore con varie sfumature. Infatti penso che farò altre Nail Art di questo tipo. Per quanto riguarda il lattice trovo che sia davvero molto utile, mi è piaciuto davvero tanto. Bisogna aspettare che sia completamente asciutto e il tempo è davvero velocissimo. Una volta applicato sopra lo smalto dobbiamo aspettare qualche minuto che si asciughi ma non del tutto. Poi si rimuoverà davvero semplicemente. Anche gli stencil mi sono piaciuti molto, sono davvero malleabili e facili da applicare sull'unghia. Anche la parte adesiva è molto forte ma non troppo forte da rimuovere anche lo smalto che avete messo come base e non lascia neanche la colla sull'unghia. E questo è tutto anche per quanto riguarda la review dei prodotti dal sito Bon Petit Store. Mi sono piaciuti davvero tutti quanti e li vedrete sicuramente in altre video Nail Art. Ringrazio ancora il sito per questa collaborazione. A voi vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!